Ciao amici benvenuti al paracolitico paradiso sta vedendo dei pescioloni guardate quello lì in fondo è largissimo non potete dire che non è largo amici è troppo bellissimi faccelli è un fricco c'è un bellissimo cartello vorrei vedere noi certo, guarda che ci sono anche i daini che belle sono i daini c'è un bellissimo cartello è un fricco bellissimi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.